Oggi cuciniamo una carbonara per due persone. Ci servono due uova. Ehi, scherzemi in cinque! Non ho le mani? Neanch'io. Un pezzetto di pecorino romano. Dai, ezi! 100 grammi di guanciale. La pancetta da poveri. È un insensibile. Bianco per colpa tua. 160 grammi di spaghetti o di mezze maniche. Scegli me! Scegli me! Peccati questo, pasta lunga. Tagliate il guanciale a dadini. In che senso tagliate? E fatelo soffriggere nel suo grasso. È il momento delle nostre uova. A noi interessa solo il tuorlo. Quindi... Quindi cosa? No, aspetta! Non ho mai visto Parigi! Aia! Aia! Aggiungiamo il pepe. Scusa, amico. Hai gli occhi! Grattugiamo il pecorino. No, aspetta! Oh! No, no! Oh, ok! Oh, bello! Ho più là? E amalgamiamo con una forchetta. Mi ciro la testa! Buttiamo la pasta. Ciro! E una volta cotta, la aggiungiamo al guanciale. Mescoliamo il condimento in maniera uniforme. E voilà! Carbonara vive! Sì, beh, e buon appetito!